Oggi siamo a Mondolfo ed esattamente nella chiesa di Santa Giustina. Claudio, innanzitutto una storia lunga otto secoli. Ci troviamo nella chiesa parrocchiale di Mondolfo, l'insigna collegiata di Santa Giustina, una chiesa che oggi vediamo con queste ricche linee barocche ma che in realtà ha una storia antichissima perché si pensa che sia stata fondata alla fine del 200 e in realtà quello che noi oggi troviamo, questa aula ricca di altari e piena di stucchi, è il frutto di un rifacimento a causa anche di gravi terremoti negli anni 70 del 700, quindi in pieno stile barocco. Ospita tra i suoi gioielli storico-artistici anche un importante organo del Veneto Gaetano Callido, un'opera del 1776 che è stata recentemente restaurata ed è oggetto anche di numerosi interventi musicali e anche una rassegna organistica. Al suo interno fra le altre opere è conservata una statua alquanto particolare, quella di Santa Lucia. Questa chiesa ha numerose opere d'arti, principalmente tele e alcune statue. Tra queste spicca una statua che è passata un po' inosservata dagli studiosi locali e non solo, una statua che non viene da questa chiesa, non nasce per questa chiesa, è la statua di Santa Lucia. Proviene da una piccola chiesuola che era a lungo corso della libertà, che è stata demolita alla fine dell'Ottocento, un'aula unica, un'aula rettangolare e le cronache ci dicono che aveva un solo altare, però ricordano la statua, però la definiscono di legno, proprio perché essendo una statua molto ridipinta non si capiva subito, immediatamente, il materiale con cui era stata realizzata. Ha delle linee ancora legate ad un retaggio culturale prettamente rinascimentale e infatti della chiesa abbiamo le prime notizie intorno agli anni 60 del Cinquecento e la statua è ascrivibile infatti al primo rinascimento. Arrivò qui a Santa Giustina alla fine dell'Ottocento e venne collocata in una nicchia accanto all'arco triunfale. Soltanto nel 2014, in occasione della ridipintura dell'intero edificio, la statua venne collocata a terra e quindi ho potuto studiarla e visionarla da vicino. È completamente incava ed è realizzata in terracotta e in un blocco unico e questa è una cosa rara perché una statua di circa un metro e venti di queste dimensioni realizzate in terracotta non è certo una cosa comune, soprattutto nel XVI secolo. Lo studio, diciamo prettamente stilistico, ha fatto avvicinare la statua ad altre opere ricondotte ad un artista molto particolare, un artista di Sassoferrato, Pietro Paolo Agabiti. Si è formato nel Veneto, soprattutto nella bottega di Cima da Conegliano e che ha realizzato numerose pitture. L'opera che noi oggi possiamo vedere, inedita nel campo artistico, è un'opera attribuibile alla sua bottega grazie a dei confronti con una natività che si conserva ad Arcevia nella cattedrale di San Medardo e ad un presepe conservato alla Pinecoteca Civica di Iesi. Dove è stata presentata questa scoperta? È stata presentata pubblicamente durante un importante evento culturale, una mostra dedicata all'artista Pietro Paolo Agabiti che si è tenuta nel 2011 a Sassoferrato e quindi l'opera è stata studiata da me con la storica dell'arte Teresa Esposito e per la prima volta quindi sono stati fatti dei confronti stilistici con le altre opere in terracotta realizzate dalla Gabiti. La statua attualmente necessita di un restauro? In futuro la parrocchia riesca a trovare i fondi, quindi anche grazie degli sponsor, per poter riportare al suo antico splendore e quindi poter riavere qui a Mondolfo un gioiello dell'arte del rinascimento fruibile a tutti e soprattutto possa anche far incuriosire i numerosi turisti che vengono a Mondolfo la storia di questa piccola statua in terracotta che migrata dall'antico oratorio di Santa Lucia alla parrocchiale di Santa Giustina.